E venne il giorno di aprire le braccia, di incatenare la morte alla croce durante una cena. Il figlio dell'uomo ai peccatori consegna se stesso. E col mio corpo prendete e mangiate, e col mio sangue prendete e bevete, perché la mia morte vi sia ricordata. Farete questo finché io ritorni, ormai non temiamo la sete o la fame. Si fa nostra carne il corpo di Cristo, e quando portiamo la coppa alle labbra, sentiamo il gusto d'un mondo che è nuovo. Banchetto pasquale dove il cibo è Dio, segno d'amore, fermento di unione. Tutti gli uomini nati dall'alto trovano i beni del regno futuro. Nel Cristo Gesù, sacerdote perfetto, e nello spirito nostro conforto, per ogni dono, per ogni tua grazia, a te sia gloria, oh Padre del cielo. Grazie. 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 Grazie.